Siano le religioni i grimbi di vita che portino la tenerezza misericordiosa di Dio all'umanità ferita e bisognosa, siano porte di speranza che aiutino a avvarcare i muri retti dall'orgoglio e dalla paura. Sono le parole che Papa Francesco ha rivolto ai rappresentanti di diverse religioni ricevuti in Vaticano. Ai circa 200 fedeli cristiani, ebrei, musulmani, buddisti, induisti e di altre confessioni, il Pontefice ha parlato soprattutto della misericordia, un mistero da celebrare non solo a parole ma soprattutto con le opere, chinandosi con compassione verso l'umanità debole e bisognosa, respingendo la tentazione di prevaricare con la forza. Dinanzi ai propri fratelli in difficoltà, che non sono mai semplicemente numeri, in un mondo agitato e con poca memoria, quanti si proclamano religiosi, sono chiamati a diffondere l'amore gratuito, perché l'uomo ha sete di misericordia e non vi è tecnologia che possa dissetarlo. L'uomo cerca un affetto che vada oltre le consolazioni del momento, un porto sicuro dove approdare, con il suo navigare inquieto, un abbraccio infinito che perdona e riconcilia. Non accada più che le religioni, a causa del comportamento di alcuni loro seguaci, trasmettano un messaggio stonato, disonante da quello della misericordia. Purtroppo non passa giorno che non si senta parlare di violenze, conflitti, rapimenti, attacchi terroristici, vittime e distruzioni. Ed è terribile che per giustificare tale barbarie sia a volte invocato il nome di una religione o di Dio stesso. Siano condannati in modo chiaro questi atteggiamenti iniqui, che profannano il nome di Dio e inquinano la ricerca religiosa dell'uomo.